ciao david complimenti oggi un secondo posto meritatissimo e infatti allora dici cosa hai portato contro chi hai perso o hai vinto insomma dai ho portato un becca mazzones con con la skill io tocca basso di già con la skill dj che è forte ho perso contro contro un gk era il mio hai perso contro di un gk un great keeper un great keeper e ho vinto contro ad esempio un ancient gear hai vinto contro tutti gli altri in realtà poi in descrizione possono vedere tutti i match up che ha avuto allora vediamo ad ecclis 2 mazzones queen 2 mazzones queen diciamo che che sono i mostri più i mostri con l'attacco più con l'attacco più alto del mazzo e con un effetto anche forte perfetto anche che i mazzones sono possesso essere distrutti in battaglia di solito viene evocato utilizzando effetto di spia a mazzones che si viene stati in battaglia può prendere può prendere un mostro amazones e rimetterlo nella mano nel deck forte vediamo gli altri 3 mazzones sull'attacco più forte del mazzo perché invece di prendere io il danno lo prendere l'avversario se io prendo il danno se attacco con quest'accato o quest'accato io si attacca l'avversario attacca l'avversario si attacca l'avversario che mi è stata molto utile contro i mazzi OTK per esempio contro l'accent gear di MasterCup poi un saggio a mazzones che serve più che altro che se non viene distrutto in battaglia può distruggere una carta giro a tepla dell'avversario forte lei una tigra a mazzones che guarda ne ha pure 400 per ogni vostro mazzones che ho che controllo e anche può e anche funziona anche bene contro l'avversario perché l'avversario può attaccare solo lei non può attaccare gli altri a mazzone è forte questo quindi viene quindi si siccome poi si potenzia da solo ma non è mai un 1100 vediamo gli altri basta allora vediamo le magie a questo punto le magie villaggio a mazzones per due che serve anche molto come per esempio con una combo con con lei con la mazzones su old lady ti schianti e nevochi una tarda che così fai sempre più danno all'avversario se può andare al civetè con questo certo con macrocosmo si tolgono le scuole le scuole le scuole e poi la mazzones 6 loom che serve sempre con con la combo con con la mazzones su old lady con la spadaccina si perché fai danno spacchi e lei sopravvive e si può utilizzare anche con le altre carte mazzones con gli altri però con la mazzones con la spadaccina sarà più forte libera e la luna coppia doppia coppia per togliere per togliere per esempio per togliere per annullare gli attacchi dei è una carta gerica che può usare in tanti metri qui è fortissimo poi mezza chiusura per due sempre con la combo con con la spadaccina perché siccome tu siccome gli togliere dell'attacco fa ancora più danno all'avversario siccome il mostro è sempre più forte e non viene distrutta poi ragione autunno per distruggere carte e magia e trappola per magia e trappola coperte però esatto rinforzi dell'esercito per prendere per esempio la spadaccina per prendere per esempio la spadaccina o anche la saggio tutti tranne la tranne la tigre la tigre esatto e la quina non si può serciare così e infine Cosmic Cyclone insine non si sa che vabbè un altro è un po' forte poi carte e trappola metaverso solo metaverso come trappola ok vediamo la side la side vediamo Flash Flash Forbidden per distruggere perchè se l'avversario ha tutti i mostri si si ha 3 mostri in campo rimpicciolire sempre si può iniziare anche per esempio sempre come combo con la spadaccina però anche per lì è più versato di mezza chiusura si Galaxy Cyclone un altro Lemuval di Roger Trappola che ci sta sempre che ci sta sempre ispirare il drago sempre per se l'avversario spacca molto la metto e posso locare da extra spazzare via sempre un Lemuval per vedere se l'avversario ha 3 cartina del G-T le sugo tutte e te quindi Windstone ho fatto accola sempre per per mandare i mostri tipo una difesa una difesa certo anche con per esempio contro il mazzo nubiano deve funzionare bene contro quel mazzo è particolarmente forte di extra per Awaking cosa hai giocato? allora Leo Giamma giusto per vederli non devi spiegarli tranquillo Leo Giamma gol e vengano gentico finale eh questo non lo puoi evocare questo l'hai messo perchè è bello ma questo è locale eh no è quello si ah bello eh Dekona del Destino Finale questo è pure molto forte Sebel Lama questo è anche forte a me lo piace molto Dekona del Finale anche questo fortissimo per lei giocherà a Cano e anche questo tanto forte complimenti ancora David ci vediamo alla prossima ciao ciao